Il governo olandese ha annunciato di essersi costituito parte civile contro la Russia, la Corte Europea dei Diritti Umani, per il suo ruolo nell'abbattimento del volo MH17 nel luglio 2014, un'operazione che giunge a rinforzo delle azioni legali intentate già dai parenti delle vittime di quel volo abbattuto da un missile antiaereo. L'annuncio è stato fatto dal Premier Rutte. Agiamo in questo modo per offrire il massimo supporto ai parenti nelle loro procedure individuali in tribunale. Presentando questa domanda internazionale, i Paesi Bassi sostengono di nuovo tutte e 298 le vittime del volo MH17, il totale dei cittadini olandesi e ovviamente i loro parenti. Avviando questa procedura possiamo supportare tutte le famiglie nell'iter legale. Il governo continuerà a perseguire la verità, la giustizia e le responsabilità del disastro. Secondo una prima perizia il missile apparteneva alla 53esima brigata antiaerea della Federazione Russa e le batterie russe erano state trasportate nella zona di lancio il giorno dello schianto. Olanda e Australia ritengono che la Russia sia responsabile della tragedia. Il governo russo ha negato il coinvolgimento nell'abbattimento dell'aereo accusando l'Ucraina di aver consentito voli civili in una zona di guerra.